Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Un altro passo avanti per il dragaggio del porto di Fano Il sindaco seri soddisfatto per l'incontro in regione Si avvicina il weekend di Pasqua ma il litorale fanese è ancora sotto sopra In sette mesi non è cambiato nulla, sporcizia e degrado sono all'ordine del giorno all'interno dell'ex caserma Paolini Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Edizione che si apre con l'emergenza a dragaggio Il sindaco di Fano Massimo seri ha avuto un altro incontro in regione per cercare di capire quante risorse il comune avrà a disposizione per i lavori Colpevole indifferenza credo ormai nei riguardi del porto e dintorno Colpevole indifferenza Ignavia politica di oggi, di ieri, di tanto tempo Senza mezzi termini Gente che chiede di lavorare, che chiede di uscire in sicurezza Che chiede di portare il cibo per la propria famiglia, per la propria comunità Dovremmo ricordarla con grande affetto oggi proprio Questa la preghiera del Vescovo di Fano Armando Trasarti Durante una santa messa celebrata giovedì scorso nella chiesa del porto di Fano In occasione della festa di San Giuseppe Anche la comunità parrocchiale del porto si unisce a questa supplica E fa appello a chi ha le responsabilità civili ed economiche Ad adoperarsi per sbloccare quanto prima la grave situazione dei fanghi I vecchi pescatori raccontano che da oltre 40 anni non si realizza più un dragaggio nel canale Albani e nel porto Una volta ricco di oltre 120 pescherecci, ora ridotti quanto le dita di una mano È un'operazione fondamentale che prima veniva effettuata regolarmente ogni anno Probabilmente favorita da una legislazione più permissiva La parrocchia del porto è preoccupata per l'impoverimento della zona Le diverse amministrazioni che si sono avvicendate negli anni alla guida del comune Affermano hanno sempre promesso interventi mirati per sanare questa grave situazione Con l'unico risultato di un'attesa estenuante La crisi economica del momento non favorisce di certo la soluzione di tanti problemi Ma si dovrebbe pur dare un'attenzione primaria a ciò che qualifica una città Tante famiglie di pescatori hanno preferito indirizzare i figli verso altri lavori più redditizi Tutti dovremmo ancora riflettere, concludono, su quella famosa espressione di Tito Livio nelle sue storie Come a dire, mentre nei palazzi della politica si discute e si dibattono i problemi Il porto di Fano viene spugnato dai fanghi Il sindaco Massimo Seri invece questa mattina ha avuto un ulteriore incontro In Regione per cercare di capire quante siano le risorse a disposizione per fronteggiare l'emergenza Abbiamo fatto un passo avanti nel senso che per la prima volta abbiamo visto delle risorse certe Non ancora sufficienti per quelle che erano le nostre aspettative Però ci siamo lasciati con l'impegno dell'assessore Giorgi e dell'assessore Marcolini Di cercare di rimpinguare questa proposta di variazione di bilancio Che dovrà essere portata giovedì in giunta e poi la settimana prossima Per l'approvazione definitiva in consiglio regionale prima dello scioglimento dello stesso Per cui se si riesce a recuperare questa risorsa Penso che il dragaggio perlomeno per quelli che erano gli obiettivi dovremmo riuscirci Abbiamo rifatto fare il nuovo carottaggio Quindi avremo modo di vedere anche la nuova classificazione delle sabbie, delle sedime Sperando che possano essere migliori rispetto a quelli del passato Ma quanto ammonta l'incirca questa cifra per poter effettuare il dragaggio? Siccome l'importo che la Regione mette non lo mette solo per il Comune di Fano Per i cinque porti regionali Ovviamente Fano è quella che ha la maggiore esigenza e anche il più grande Quindi io penso che se la Regione riesce a destinare 3 milioni La quota per Fano è una quota che per il dragaggio dovrebbe essere sufficiente Auspichiamo che effettivamente possiamo dare questa risposta a tutta la marineria fanese Si avvicina la stagione balneare e a pochi giorni dalla Pasqua siamo andati a vedere come si stanno preparando le spiagge fanesi Le mareggiate avevano devastato la costa causando danni importanti alle infrastrutture balneari Gli operatori hanno dovuto fare i conti con un litorale distrutto Cercando di sistemare, riparare e salvare tutto ciò che la forza delle onde non ha rotto o non ha spazzato via Diverse sono state le spiagge messe in ginocchio E tra queste, come vi abbiamo mostrato nelle immagini del 5 e 6 febbraio scorsi Ci sono quelle di Gimarra Il maltempo di febbraio qua che danni ha provocato? Il maltempo di febbraio ha provocato qui lo smontamento di sotto il tazzino che c'erano del bar Ci ha portato via tutto il muro, ha crollato tutto Dei problemi anche da questa parte? Problemi di qua, che ha scoperto tutti i tubi, che c'erano delle fogne del corio che c'erano sotto Ha scoperto tutti i tubi, bisogna fare tutta la rete fognaria nuova C'è tanto lavoro da fare qua? E qui sì, perché dobbiamo rifare tutto il muro, tutto intorno, un po' più solido di quello che c'era E poi rifacciamo tutto il piano sopra Perché qui il problema è fare arrivare la roba Cioè non abbiamo una strada, con i camion non possiamo arrivare Quindi dobbiamo scavalcare il sottopassaggio e portare la roba, tutta la roba a mano I danni provocati sono stati ingenti anche ai bagni Crida Dove già dai giorni successivi al maltempo O gestori, clienti e operai si sono messi al lavoro per poter ripristinare la spiaggia Che gestiscono da una vita Come sono stati questi quasi due mesi? Duri, molto duri Abbiamo avuto molto aiuto da conoscenti, parenti Però inizialmente, poi dopo ci sono lavori speciali, lavori professionali Però ti voglio dire che ci siamo lasciati in ginocchio, che ti ho detto Ci siamo subito ripresi E con questa gran passione che abbiamo per questo lavoro Che ormai sono 40 anni che facciamo questo lavoro I miei figli, io da giovane E quindi andiamo avanti Sono stati eseguiti dei lavori proprio strutturali? Sì, strutturali Perché come avevate visto l'altra volta Aveva stravolto tutte le passerelle, il cemento I capanni che erano stati buttati giù Quindi tutto questo lavoro è stato quasi rifatto Come vedete ci sono tutte le passerelle già fatte Anche se poi il maltempo ha ripassato successivamente Anche quello l'abbiamo rimesso a posto Adesso, cosa ti devo dire? Aspettiamo l'amministrazione che faccia il suo dovere Le riunioni ci sono state, le promesse ci sono state Adesso aspettiamo Noi il problema nostro, quello che rimane adesso è il ripascimento Invece l'AZ è passata a ritirare il materiale? Ecco, un altro problema è che noi per arrivare nella nostra spiaggia C'è un tratto che è stato rovinato Nel comune e nell'AZ ha provveduto a risanare questo tratto Per poter passare con i camion Venire a ritirare tutta l'attrezzatura rotta Murature buttate giù Io spero anche questo, che si mettano d'accordo E chi deve fare questo lavoro Altrimenti noi siamo bloccati Entro quando contate di aprire? Ma si parla del primo maggio Ma io penso che noi saremo sicuramente pronti Anzi, penso di poter dire che faremo una bella festa Per tutti i nostri clienti Sicuramente E per far fronte ai danni causati dall'ultima ondata di maltempo Il Comune di Pesaro sta aspettando risposte dalla Regione Siamo stati tempestivi nel segnalare i gravi danni subiti al nostro litorale Ha dichiarato l'assessore alle nuove opere Andrea Biancani Ma la Regione non ha ancora assegnato le risorse annuali ai Comuni Che hanno fatto richiesta Se tarderà ancora saremo costretti a effettuare i lavori durante la stagione estiva Con gravi disagi da parte degli operatori e dei turisti A queste dichiarazioni ha poi risposto il Presidente delle Marche Gian Mario Spacca L'assessore Biancani sbaglia totalmente indirizzo Ha detto il Governatore Anziché alla Regione occorre la sua missiva Che sia spedita al Presidente del Consiglio Matteo Renzi A causa di una frana è stata chiusa la strada provinciale 26 Che collega Sant'Angelo in Lizzola a Montecchio Intanto una perturbazione proveniente da Nord Africa Porterà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteo Con piogge che interesseranno buona parte dell'Italia Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un allerta meteo Che prevede vento fino a Burrasca Sui settori orientali di Emilia Romagna e Marche Lo scorso settembre vi avevamo mostrato lo stato di incuria e degrado In cui versava il cortile interno dell'ex caserma Paolini A distanza di sette mesi siamo andati a vedere che cosa è cambiato Erba incolta, rami secchi accantonati e sporcizie ovunque Così si presentava il 2 settembre scorso il cortile interno dell'ex caserma Paolini a Fano Uno scenario poco gradevole segnalato alla nostra redazione e all'amministrazione comunale Dai volontari della protezione civile Ecco che cosa ci aveva raccontato il signor Flavio Non puliscono mai, noi puliamo qui davanti ma non possiamo correre dappertutto Ci sono tanti rami secchi? Eh molti, guardi laggiù, guardi là Che dovevano portarli via due, tre anni, tre, quattro anni fa E neanche ancora sono venuti E poi si va a vedere là di dietro c'è un macello di sporchissi a carte Non pulisce mai nessuno Un luogo dove incuria e degrado la facevano da padrona Ma in questi sette mesi sarà cambiato qualcosa? Le foglie e i rami sono ancora lì, accantonati da una parte e dall'altra Questa era la sporcizia presente lo scorso anno Questa è quella che c'è ora lungo la strada e i marciapiedi Cartacce, pezzi di cartone, bottiglie, involucri di plastica, ombrelli rotti Buste vuote di popcorn, di coriandoli e sacchetti della spazzatura Il 2 settembre scorso alcune panchine erano rovesciate, oggi idem All'interno dei lavandini inoltre erano ben visibili due borse da donna Una di colore nero e un'altra oro Adesso se ne sono giunte altrettante ma di colore rosa e viola Il maltempo dei primi di marzo poi non ha di certo aiutato la situazione Le forti raffiche di vento, oltre a rompere diversi vetri delle finestre dell'edificio Hanno provocato il crollo di un cornicione Ancora lì, a penzoloni sopra le auto è dunque pericoloso per l'incolumità delle persone Ma i pericoli si possono incontrare in diversi punti Come in questo caso, dove un grosso pezzo di cemento è situato proprio in un'area di sosta Insomma, in tanti si augurano che sia l'immobile sia il parcheggio Che si trovano fuori dalle mura ma due passi dal centro storico Possano essere dopo tanti anni sistemati e riqualificati E adesso vogliamo mostrarvi queste immagini Perché un nostro telespettatore ci ha segnalato Che nella parte destra dell'arco d'Augusto Qualcuno ha pensato di scrivere una dedica con tanto di simboli esplicativi Sulla porta cittadina che ha oltre 2000 anni di storia E adesso, oltre a diverse macchie provocate dalle stelle filanti spruzzate Con bomboletta spray durante il carnevale Da qualche giorno spicca anche questa scritta Realizzata con un pennarello nero indelebile Nell'ambito del processo di riorganizzazione in area vasta 1 Delle attività sanitarie e amministrative A fine mese inizierà la fase dei trasferimenti per il servizio vaccinazioni di Fano Da via 4 Novembre al Palazzo di Vetro si sposta a Rosciano In via Paolo Borsellino numero 4 primo Al piano della stessa sede del Dipartimento di Prevenzione Il trasloco avverrà da lunedì 30 marzo al 6 aprile Le attività di vaccinazione riprenderanno regolarmente martedì 7 aprile I nuovi recapiti telefonici della segreteria del servizio vaccinale Sono lo 0721 86 89 86 Oppure il fax lo 0721 86 89 83 E adesso parliamo di Tempo instabile con Probabili schiarite Il film che il regista Marco Ponte Corvo Questa mattina ha presentato in conferenza stampa a Pesaro Dove stasera sarà proiettato in anteprima Dopo molti viaggi tra Marche e Romagna per cercare il set ideale Ha dichiarato l'ho trovato tra Pesaro, Cagli e Fano Costato circa 2 milioni di euro Il film è stato finanziato anche con 120 mila euro di fondi europei dalla regione Marche Ma come ha riferito Anna Olivucci di Marche Film Commission Le ricadute sul territorio sono state di 560 mila euro Le 5 settimane di lavorazione hanno dato un lavoro a 600 persone E si avvicina il concerto della settimana santa in cattedrale Come ogni anno il coro cappella musicale del Duomo di Fano Ne sarà il protagonista Erano presenti anche nella sala della Concordia durante l'incontro Tra l'amministrazione fanese e il sindaco di St. Albans Jeff Harrison I componenti del coro cappella musicale del Duomo di Fano Avevano cantato per l'inaugurazione della copia della statua della Dea Fortuna Donata al comune gemellato da oltre 10 anni Una realtà quella della città inglese che avevano già avuto la possibilità di conoscere lo scorso anno Durante un viaggio in Inghilterra in cui parteciparono 50 coristi Tra cui 20 adulti, 17 ragazzi e diversi genitori L'esperienza in Inghilterra a St. Albans è stata veramente intensa È stato un tour de force devo dire Anzi ci siamo affaticati molto Però è stato un turbine di emozioni continue La città di St. Albans ci ha accolto veramente molto calorosamente Hanno organizzato anche visite, dimostrazioni Anche la cattedrale di St. Albans ci ha accolto veramente con molto entusiasmo È stata una bella esperienza Un'opportunità quella del coro considerata un'importante occasione di formazione per tutti i componenti Compresi i bambini e i ragazzi che durante gli incontri settimanali all'ex seminario di Fano Hanno anche la possibilità di studiare e imparare a suonare uno strumento musicale Questi bambini del coro si iscrivono ad una scuola corale Come dicevo prima, in cui non solo fanno attività corale Che tra l'altro è molto formativa, molto utile Non solo dal punto di vista musicale ma dal punto di vista umano Per la collaborazione e la coesione che generano i ragazzi Soprattutto in queste fasce di età che vanno dai 8-9 anni fino ai 14-15 anni Questi ragazzi e bambini si iscrivono qua e studiano anche uno strumento musicale Quindi arricchiscono la formazione musicale dello strumento con la formazione musicale d'insieme del coro Quali sono i vostri progetti? A fine di marzo il tradizionale concerto della settimana santa in cattedrale È sempre un impegno molto importante per il coro e molto sentito Poiché apre le funzioni del triduo pasquale con un concerto sullo stile della meditazione e sui misteri della passione Poi ovviamente ci saranno tutte le funzioni liturgiche che caratterizzano il periodo E tra le varie attività diciamo programmate e fissate Poi finiamo con il mese di luglio dove c'è l'edizione del festival I suoni e la parola In cui la cappella musicale ospita altre formazioni corali o altri musicisti Realizzando una serie di concerti nelle chiese e anche nelle chiese minori del centro storico fanese Fra poco il maestro e alcuni componenti del coro saranno ospiti di Lino Balestra nel salotto di Dopocena Grazie per averci seguito e arrivederci a domani